Tullio Giacchini, capo del progetto DomusMaker, ha partecipato al Maker Faire Roma con la sua invenzione per il risparmio energetico domestico. Il progetto pilota consiste nella conversione della sua termostufa a legna ad una pellet attraverso un bruciatore autocostruito. È controllato da Arduino Uno che gestisce una termopistola e i motori di avviamento del serbatoio. La scheda monitora anche la temperatura del serbatoio dirottandola alla centralina e la scheda Arduino Yan per il controllo a distanza da smartphone. Il goal della DomusMaker è quello di rendere automatizzata ogni dimora e controllarla a distanza. Produrranno a breve il prototipo 1 del bruciatore ed inizieranno la fase di industrializzazione e produzione di un kit da proporre a tutti, a costi vantaggiosi. Prossima automazione sarà il controllo dell'irrigazione e del giardino e dei servizi elettrici, di seguito all'intervista a Giacchini. È un bruciatore a pellet autocostruito e la cui centralina è realizzata con Arduino. Praticamente mi permette di... avevo una termostufa a legna, l'ho trasformata a pellet realizzando questo perché è il prototipo che stava nella mia stufa e praticamente dal serbatoio viene trasportato il pellet nel bruciatore e poi c'è una pistola d'aria calda che innesca l'accensione e un ventilatore che mantiene la fiamma accesa. Una volta, dopo un minuto, appena la fiamma è partita, la stufa è in funzione. Quindi praticamente io con questo bruciatore dentro la stufa, che è una termostufa a legna, riscaldo una casa di 200 metri quadri. In questo qua, diciamo stufa esclusa perché quella ce l'avevo, mi ha costato sui 500 euro. Con Arduino che comanda tutto. È la cosa bella, particolare, che posso accendere da telefonino, da remoto, ho fatto una app che chiama Arduino Yan e mi accende la stufa e mi controlla la temperatura della casa, insomma, qualsiasi cosa ha necessità.